Il primo edificio dimostratore sperimentale in scala reale ad energia quasi zero, NZEB, sarà realizzato in Campania, in provincia di Benevento, sui suoli dell'Università del Sannio. Si tratta del primo test di questo tipo nel sud Italia, attraverso il quale verranno messe a sistema innovative metodologie progettuali, costruttive e impiantistiche. L'edificio NZEB è stato presentato nel corso dell'evento organizzato dal Distretto Tecnologico Stress, dall'Università Federico II di Napoli e dall'Università degli Studi del Sannio all'Unione Industriali. Nell'ambito del confronto tra le industrie leader del settore energetico, il mondo della ricerca e le associazioni di categoria, presentate alcune delle soluzioni più avanzate sul tema dell'efficienza energetica. Il dimostratore NZEB sarà realizzato sotto il coordinamento scientifico del professor Giuseppe Peter Vanoli del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio, in un'area messa a disposizione della stessa università. Ai nostri microfoni per parlarci dei particolari, Filippo De Rossi, rettore dell'Università degli Studi del Sannio. Faremo questo dimostratore del progetto che è un edificio in scala reale, centinaia di metri quadrati, che sarà la manifestazione evidente che è possibile ormai oggi con le tecnologie attuali arrivare all'edificio a consumo zero o quasi zero, come richiedono le norme e come anzi bene sottolineare, dal 2021 sarà obbligatorio qualunque costruzione nuova, anche di privati, dovrà andare in questa direzione. Quindi cominciare a dimostrare che questa è una realtà possibile, certo in certe condizioni per il momento ancora prototipali, mi sembra che sia un fatto molto importante. All'evento è intervenuto anche Ennio Rubino, presidente di Stress. Una nuova sfida per il distretto, anche perché come sappiamo le costruzioni influiscono pesantemente sul raggiungimento dei criteri di sostenibilità. L'efficienza energetica è uno dei temi da approfondire e perseguire. Qui noi presenteremo un progetto che realizzerà il primo edificio a consumo zero nel Mezzogiorno d'Italia presso una struttura accademica come l'Università del Sagno.